Presidente, oggi a Bologna per presentare una nuova iniziativa, una nuova fiera che vi vedrà partecipi e protagonisti nei prossimi mesi. Che cosa sarà e quali sono i contenuti che svilupperebete in questi giorni in fiera? Dunque, la fiera come sapete ha un nome, si chiama Franchising e Retail Expo e quindi sarà una fiera con una anche caratteristica internazionale perché proprio nei giorni della fiera, che sarà nel prossimo mese di aprile 2016, avremo a Bologna per la prima volta in Italia il congresso del World Franchising Council, che è l'organizzazione mondiale del franchising, dove sono presenti 50 paesi. L'idea è quella che in un mondo dove oramai le tecnologie hanno fortemente penalizzato il modo di fare commercio tradizionale, perché oggi vediamo l'e-commerce attraverso internet crescere a livelli esponenziali. Il commercio cosiddetto indipendente, ovviamente su un mercato caratterizzato dall'e-commerce da una parte, dalla grande distribuzione dall'altra, fa sempre più fatica a restare su un mercato in modo competitivo. Ecco, occorre che il commercio indipendente si renda conto che per affrontare questi mercati occorre unirsi, occorre unirsi in sistemi a rete dove l'accesso alle tecnologie, la notorietà del marchio, le economie di scala importantissime sono caratteristiche indispensabili per poter competere. Come sta il settore che lei rappresenta, quindi il settore in questo momento? Quali sono i punti di forza e se c'è qualche sofferenza da dove deriva? Ma dunque, allora, questi ultimi terribili sei anni, perché ormai sono sei, dal 2009, hanno visto penalizzate le economie, sappiamo quanto, in tutto il mondo. L'Italia ha sofferto ancora di più, i consumi sono stati fortemente compressi e quindi il commercio ha sofferto. Il franchising, diciamo, anche lui ha sofferto, nel senso che se fino a prima del 2009 il franchising per molti anni è cresciuto a doppia cifra, diciamo dal 2009 al 2013, che sono gli ultimi dati disponibili, va bene, il franchising ha mantenuto il segno più, un modesto segno più, ma l'ha mantenuto. Questo significa quindi, di fronte a un commercio, un commercio indifferenziato che invece ha purtroppo conosciuto il segno meno. Questo è, se volete, una testimonianza del fatto che i sistemi più competitivi sono riusciti a attraversare la crisi con meno danni rispetto a sistemi invece più tradizionali. Un'ultima domanda, cosa chiedete? Se chiedete qualcosa al Governo centrale rispetto al vostro settore, c'è qualcosa su cui si può intervenire a livello legislativo? Insomma, si può andare avanti in questo modo? Ma dunque, qui la risposta ovviamente ha caratteri più generali. È chiaro che la fiscalità è un grosso problema, sia per quanto riguarda il livello dell'imposizione fiscale, sia per quanto riguarda le procedure burocratiche, perché sappiamo che purtroppo il nostro Paese e il commercio anche soffre molto, che è fatto da centinaia, migliaia di piccole e medie aziende, soffre moltissimo, sì il carico fiscale, ma io direi quasi di più soffre l'estrema pesantezza delle nostre procedure burocratiche. Quindi da parte del Governo ci dovrebbe essere finalmente questa azione decisa verso lo snellimento delle procedure da un lato e verso il contenimento, la riduzione del cuneo fiscale dall'altro.